buongiorno a tutti oggi vi propongo un possesso settoriale 7 contro 7 in 4 quadrati in fase di possesso la squadra deve occupare tutti e quattro gli spazi ed ogni sei passaggi si effettua un punto la preparazione era stata eseguita circa su un 40 per 35 40 metri di lunghezza 35 di larghezza come varianti possiamo mettere tocchi limitati in questo possesso vogliamo allenare e abituare i giocatori ad occupare correttamente lo spazio in fase di possesso come detto e chiaramente anche a favorire la mobilità gli interscambi visto che sono liberi l'importante che ogni settore sia sempre occupato questa struttura e soluzione era stata adottata poiché in quella seduta di allenamento i giocatori erano pochi e abbiamo deciso di proporre questo tipo di esercizio se ti è piaciuto fammelo sapere con un mi piace un commento e ti invito ad iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video grazie a tutti